Buongiorno a tutti, oggi preparo dei biscotti da inzuppo. Mi occorre 500 grammi di farina 0, 100 grammi di amido di mais, 250 grammi di zucchero, un pizzico di sale, un limone grattugiato, 100 ml d'olio, 120 ml di latte, una bustina di lievito per dolci e 5 uova, zucchero a velo per la copertura. Inizio la preparazione, metto le uova e lo zucchero nella planetaria e inizio a montare. Grazie a tutti. Montate le uova con lo zucchero, inizio a mettere la farina poco alla volta e mischio, partendo sempre dal basso verso l'alto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Metto la buccia grattugiata del limone. Metto il pizzico di sale. Prima di ultimare l'inserimento della farina, in una ciotola a parte metto il latte e l'olio. Aggiungo un po' di impasto. e mischio tutto. Faccio questo per non far smontare l'impasto. Amalgamato tutto, lo verso nell'impasto e lo mischio. Finisco di mettere la farina e la inserisco tutta. Pronto l'impasto, mi aiuto con una sac à poche e faccio le forme. facciamo delle strisce. Grazie a tutti. metto un po' di zucchero a velo sopra. metto un po' di zucchero a velo sopra. metto un po' di zucchero a velo sopra. Vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 15 minuti. Allo stesso modo faccio l'impasto rimanente. metto un po' di zucchero a velo sopra. Pronti da gustare? Grazie della visione. Alla prossima. Da gustare o con il tè o con una tazza di latte oppure con il caffè. iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.